Tra il dire e il fare, non c'è più di mezzo il mare, ma solo Digiline Global Communication. Un centro di comunicazione leader nel campo della telefonia per non lasciarvi mai senza parole. Digiline Global Communication vi offre tutte le migliori proposte, sempre aggiornate, grazie al personale qualificato ed una vasta gamma di prodotti di ultima generazione, per soddisfare anche i clienti più esigenti. Digiline vi aspetta presso il centro team in corso Garibaldi 62. Il centro Vodafone in corso Garibaldi 122 e presso il 3 Store in corso Garibaldi 38. Digiline Global Communication inoltre è anche convenienza, con gli articoli settimanali e mensili sempre in promozione.